E' stata una settimana drammatica, una settimana durissima, dolorosa. Non abbiamo più lacrime per piangere quelli che muoiono sul lavoro. E' rimasta però molta rabbia, tanta rabbia. E soprattutto perché c'è una cosa che bisogna dire. Chi per vivere ha bisogno di lavorare non può morire lavorando. E' inaccettabile. E morire sul lavoro non è una fatalità, non è un destino cinico. Quando si muore sul lavoro è perché non si rispettano determinate regole, determinate leggi. E perché prevale la logica del profitto. E perché prevale la logica della riduzione dei costi. Tanti di quelli che muoiono lavorano in ditte in appalto, in subappalto. Sono lavoratori precari oppure sono lavoratori che hanno più di 60 anni. Questo dramma bisogna interromperlo, bisogna bloccarlo. Per questo noi come organizzazioni sindacali non abbiamo solo si operato per protestare in questi giorni. Ma abbiamo lanciato dalla prossima settimana una mobilitazione in tutto il paese per fare assemblee in tutti i luoghi di lavoro. Per aprire vertenze sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. E abbiamo anche chiesto, incontrando le forze politiche, che ci sia una seduta speciale del Parlamento su questa materia. E lo dico in modo molto chiaro. I numeri parlano da solo. Dall'inizio dell'anno sono 267 morti. Due al giorno. Negli ultimi dieci anni sono morte 13.000 persone. E si muore come si moriva 50 anni fa. Perché cadi dall'alto. Perché ci sono dei carichi sospesi. Perché ci sono situazioni drammatiche. Molto spesso, insisto, i luoghi in cui queste persone muoiono sono ditte in appalto. Sono giovani a cui non è stata fatta la formazione. Che si muovono in una logica di questo genere. Allora, si parlava prima che è stato fatto un contratto oggi tra l'onorevole Di Maio e l'onorevole Salvini. Io ho dato un'occhiata veloce perché sono stato preso ad altre cose. Io in quel contratto non ho visto una parola sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. E lo dico in modo molto chiaro. Mi rivolgo direttamente a loro. Il problema della sicurezza di questo Paese non è chiudere le frontiere. Il problema della sicurezza di questo Paese qui è poter far lavorare le persone e che le persone possono vivere e non morire sul lavoro. E per fare questo hanno bisogno di fare cose. Facciano assumere gli ispettori. Ridiano i soldi alle regioni per fare la prevenzione. Combattano l'economia. È l'economia che sta uccidendo le persone. Quando mette al centro il profitto e il mercato e non al centro la persona. È la precarietà che uccide le persone. E a loro serve questo. E lo dico con molta chiarezza. Anche a questo nuovo governo è necessario rimettere al centro le persone e le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Questo deve essere la centralità dell'azione e deve sapere che il sindacato e i lavoratori sono stanchi. Non vogliamo più morire sul lavoro. Vogliamo poter realizzarci come persone nel lavoro che facciamo per fare una cosa utile. Non rinunceremo mai a questi obiettivi. E non ci fermeremo davanti a loro. Grazie, Rappini. Allora, Nandini, le chiedo una cosa velocemente. Alcuni degli incidenti a cui stiamo assistendo stanno avvenendo in stabilimenti vecchi, fatiscenti, dove addirittura gli operai denunciano di lavorare 50 ore alla settimana, soprattutto quelli dell'appalto, che lei infatti ha ricordato. Voi come sindacato ve ne accorgete? Lo sapete che si lavora anche 50 ore a settimana nell'appalto? Noi l'abbiamo denunciato. Infatti noi chiediamo che venga... Il problema non è l'appalto, il problema è il subappalto. Quando un'azienda può subappaltare a chi vuole e a quel punto lì ricatta anche le persone, perché ti dice che se non accetti questa condizione ne prende un'altra. Noi stiamo denunciando questa situazione. Questo è un punto su cui bisogna intervenire. Fare leggi che impediscono. Chi ha l'appalto deve essere responsabile di quello che avviene e deve rispondere di quello che succede. E noi di questo ci stiamo battendo. Non sono solo gli operai che rischiano ogni giorno, ma per esempio ieri c'è un giovane rider che mentre consegnava il cibo per una di queste aziende ha avuto un incidente, gli hanno dovuto amputare una gamba. Come si fa a difendere un lavoratore atipico se non riusciamo neanche a garantire la sicurezza degli operai sindacalizzati? Bisogna smetterla di pensare che ci sono i lavoratori sindacalizzati e i lavoratori atipici. Basta. Sono tutte persone che lavorano e tutti debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Questo è il punto. Sì, ma si può fare. Basta cancellare il jobag, basta cancellare le leggi sbagliate. Queste cose si possono fare. E vorrei aggiungere, ricordandolo, dei morti di questa settimana alcuni di questi sono stranieri. Allora, quando si parla di chiudere le frontiere agli stranieri si dovrebbe dire che questa economia uccide senza guardare in faccia se sei italiano o se sei straniero. Questa è la sicurezza che deve essere messa al centro. Questo è il punto che dobbiamo cambiare. Vuol dire culturalmente rimettere al centro la persona, non il profitto, non il mercato. In battuta, lei ha detto che non ha letto molto questo contratto ma comunque non ha letto cose che la convincono. Però, per esempio, su Jobs Act e Fornero siete in sintonia? Più che col governo uscente? Io ho detto semplicemente che sulla salute e la sicurezza non ho visto una parola. Quindi gli chiedo di scrivere. Però sull'abolizione della Fornero e la revisione della Fornero è d'accordo? Noi abbiamo chiesto di riscrivere quella legge lì, abbiamo delle proposte. Io mi auguro che questo governo, a diversità di quelli che ci sono stati prima, si confronti con le organizzazioni sindacali che rappresentano milioni di persone e cerchi degli accordi e delle soluzioni. Perché i vostri operai l'hanno votati. Non solo i nostri operai, il Paese li ha votati. Però il punto adesso è che facciano esattamente. Noi siamo un soggetto autonomo, non dobbiamo guardare in faccia questo o quel partito. Noi dobbiamo guardare quello che fanno. Se cancellano le leggi, bene. Se danno lavoro ai giovani, se cancellano la precarietà. Noi abbiamo avanzato delle proposte molto precise. La CGL ha depositato in Parlamento una legge per un nuovo statuto di tutti i diritti nel lavoro e di tutte le forne di lavoro. Debbano rispondere. Se lo fanno, bene. Se non lo fanno, agiremo come abbiamo fatto con tutti i governi. Con uno sciopero? Se necessario, studieremo insieme ai lavoratori le mobilitazioni necessarie. Però c'è anche la possibilità di portare gli operai in piazza come nei tempi gloriosi. Intanto noi vogliamo portare a casa dei risultati per le persone che rappresentiamo. Verificheremo se si cambia la legge Fornero. Noi siamo pronti. Se si cambia il job act. Noi abbiamo avanzato delle proposte. Ma poi bisogna intervenire e rimettere al centro il lavoro e la sicurezza del lavoro. Staremo a vedere. Grazie Ladini. Buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro.